E ciao a tutti amici, sono sempre Iogold e benvenuti in questo nuovo episodio di Space Engine in serie Survival Oh gente, quanto sono felice finalmente di poter tornare a registrare Come state, come state Allora, allora, allora Vi sarete resi conto che sono cambiate molte cose Allora, ci sono state molte cose che ho fatto in live Perché non sta caricando le texture? Vabbè, ci sono successe molte cose in live Ci sono successe molte cose off camera Laggiù ci sono delle torrette, adesso vi spiego tutto Prima di tutto voglio mettervi uno spezzone dell'ultima live che ho fatto questo giorno Che è il 24 Voglio mettervi questo spezzone perché vi fa rendere conto del motivo per cui ho dovuto installare delle torrette ovunque Ragazzi, ovunque Adesso vi faccio passare questo spezzone preso dalla live Dopodiché vi spiego cosa ho fatto E cosa è successo dopo la live Buona visione Sta arrivando un veicolo nemico C'è un veicolo Quello lì è un drone Merda Devo scavare a terra Veloce, 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 veloce Possiamo dire addio al veicolo ragazzi Ecco qua Merda Non penso di avere niente alla fabbrica di utile però Mi seguono Non posso portarli alla fabbrica Se iniziano a sparare ai serbatori della fabbrica Lì succede una merda Ma davvero tanto ragazzi Penso che è una delle migliori opzioni che ho a farli schiantare tra di loro Perché sono droni alla fine Diamo tutto l'equipaggiamento qua dentro ragazzi E penso Cosa cazzo state sparando? C'hanno proprio con questa zona? No ragazzi Fantastico Fantastico ragazzi Sponiamo all'aeroporto Meno male Meno male Meno male Ok, ok, boni Come hai messo la 10? La 10 funziona Oh yes Cosa sta succedendo? Perché? Perché andava verso sinistra? Ma Cristo Cazzo di ansia C'ho la telecamera Bravo me Non hai nemmeno la telecamera della GAU Oh sì che spara Benissimo Benissimo Ok adesso però dobbiamo evitare quel fleeting rival Fleeting rival Benissimo Cazzo Ha mancato Oh Merda Ok 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 Va bene Vai così Ok Ok Sono riscaldata Pensavo di averlo colpito per un attimo Sì L'abbiamo preso ragazzi Abbiamo disabilitato l'antenna Benissimo Adesso non chiamerà più i rifornimenti Eh sì i rifornimenti Il I rinforzi Ah Oh Oh Stallato malissimo Ah Evita i colpi Preso L'abbiamo preso ragazzi L'abbiamo preso Mi ha sparato anche lui Però l'abbiamo preso Preso L'abbiamo abbattuto E l'abbiamo abbattuto Signori L'abbiamo abbattuto Andiamo a vedere Mentre si schianta Ok Rimettiamo la sicura Sull'arma Eccolo lì È un puntino rosso Che si sta schiantando Ragazzi Ed è accaduto in acqua Oh ma Bellissimo Non sono esattamente Allineato con la pista D'atterraggio Ma penso di poter Sistemare Ci siamo ragazzi Siamo atterrati Mamma mia ragazzi Cosa cazzo abbiamo fatto Dunque È stata È stata Un'attività Molto particolare Soprattutto intensa Mi ha fatto piacere L'utilizzo Dell'aereo Cioè è stato Molto più fluido Se vi ricordate Nelle scorse sessioni Perché sessioni Nelle scorse episodi Nelle scorse episodi Ho avuto molti problemi Con l'aereo Perché Non sparava Non agganciava i versagli Mentre Come avete visto adesso Dalla live Spara Senza problemi È Fantastico Sono riuscito anche A farlo atterrare Non una ma ben due volte Perché una volta L'ho dovuto fare anche off camera E appunto adesso Vi voglio spiegare Velocissimamente Proprio Cosa ho fatto Dopo quella live Perché appunto Avevamo il veicolo Gruppo elettrogeno Che è quello elettrico Per la ricarica elettrica Scusate Alla fabbrica di veicoli La fabbrica di veicoli Era stata danneggiata Il mio veicolo Da trasporto pesante Era stato danneggiato Anzi distrutto E invece Eccolo qua Di nuovo Cosa ho fatto Come potete immaginare Da quel momento C'era molto panico Soprattutto perché Io sono sempre stato Con la Modular Encounter Spawner Lì Non sapendo se Funzionava o no E quindi L'ho sempre data Un po' Per scontata Sta di fatto Che funziona Funziona anche bene E quindi Ho dovuto fare Un giro di tutte Le mie installazioni Per installare Delle torrette Ho optato Per due tipologie Di torrette Questo qua Che è il modello Copesh Ha un ratio Di fuoco Abbastanza basso Ma ha dei colpi Più grandi Di calibro Questa qua spara Un 50 mm Penetrante Armor Pershing Ve la faccio vedere Perché penso Di poterlo fare Aspettate Perché ho fatto Anche il bunker Mentre in altri casi Ho utilizzato Delle Raptor Che sono più grandi Ma sparano Più velocemente E sparano Dei 30 mm Dovrebbe essere Questa Ecco qua Sì Questa qua Insomma Sono automatiche Ovviamente Quindi non vi preoccupate Per quello Però Ci difenderanno Eravamo All'aeroporto Quello che ho fatto È stato Riparare L'aereo Ma quello Penso di averlo fatto In live Poi Ho installato Un giro di torretta All'aeroporto E quelle si sono rivelate Utilissime Ma davvero molto utili E vi lo spiego Dopo perché Fatto tutto quello Ahimè Mi sono dovuto Ammazzare Per forza Perché non c'era altro modo Per andarmene Dall'aeroporto Sono respawnato Nella base di appoggio Vicino alla fabbrica Di veicoli Dove ho preso Il veicolo Gruppo elettrogeno Sono arrivato Alla fabbrica Dalla fabbrica Ho Prima di tutto Riparato tutti i danni Ho smantellato La La parte energetica Delle turbine e ollie Ma sapete cosa? Spero non vi dispiaccia Però queste cose qua Ve le devo far vedere Eccolo qua Vi faccio vedere Ok Dunque Ho dovuto rimuovere La parte delle Delle turbine eoliche Che era qua sopra E come potete vedere Abbiamo installato Le torrette copesh Dopodiché Per effettivamente Soperire alla mancanza D'energia Ho costruito questo Questo è un piccolo Gabbiotto energetico E per lo più Adesso abbiamo anche Lo spawn All'interno della fabbrica Che è stra comodo Ci sono alcune batterie E due motori a idrogeno Il collegamento è stato fatto Qua sotto Oh mi sono Mi sono dimenticato di tappare Maledizione È stato fatto Là sotto Con dei tubi Semplicissimo Da qua poi Ho stampato il veicolo Per il trasporto Quindi il veicolo pesante Per il trasporto Ho preso il veicolo Gruppo elettrogeno Mollato qua il veicolo Di trasporto Sta diventando Difficile parlare Con il veicolo Gruppo elettrogeno Sono andato All'aeroporto Dove Ho utilizzato effettivamente Il veicolo Per Ricaricare Entrambi gli elicotteri Sono partito Da quello più piccolo Che ci ha impiegato Soltanto 15 minuti Per ricaricarsi Così poi Ho lasciato Il veicolo Gruppo elettrogeno Lì Semplicemente A caricare L'altro aereo L'H65 E ho preso L'elicottero piccolo Per tornare Qua alla fabbrica Dove ho preso Il veicolo pesante Sono andato Fino al porto Ho lasciato lì Il veicolo pesante Dopo aver fatto Un breve rifornimento Qua E poi sono dovuto Tornare a piedi Ahimè Fino a qua Per prendermi L'elicottero Che adesso invece È al porto E Suppongo che questo Sia tutto Dunque Teoricamente Poi sono tornato Anche All'aeroporto Perché dovevo Staccare Il veicolo Gruppo elettrogeno Dal Dall'elicottero Quello che ho trovato È stato questo E vi metto Un'immagine Su schermo Per farvi capire La frustrazione Quello che è successo È che praticamente Il veicolo Gruppo elettrogeno Ha dei problemi Nel dissipare Il calore Quando Quando sta ricaricando E quindi Mi sono trovato Tutte le batterie La maggior parte La maggior parte La maggior parte delle batterie Era bruciata Mentre per l'elicottero C'è stato solo un danno Sull'antenna Quindi ho dovuto Riparare il riparabile Con Con delle saldatrici Che ho messo lì Sul momento Ci ha voluto un attimo Per fortuna Per riparare il gruppo elettrogeno E lì è andata bene Da lì poi Ho ripreso l'elicottero piccolo Sono tornato al porto Che è dove ci troviamo Adesso Ah no in realtà Ultimo dettaglio Quando ero all'aeroporto Era spawnata Praticamente Una base No non era una base Era un observation outpost O qualcosa del genere Vicino all'aeroporto Che pompava fuori Dei droni La cosa ovviamente Mi dava molto fastidio E quindi ho dovuto Riprendere l'aereo E bombardarlo di nuovo Lì è andata molto più facile Perché avevo fatto Il rifornimento all'aereo Di missili E quindi con i missili Aria terra Cioè Sarebbero missili aria Aria Però Attaccano anche a terra Quindi va bene E Sono riuscito ad abbattere Velocemente la torre Scusate L'antenna E quindi è rimasto solo Un drone in aria Quel drone Poi facendo un po' di strafing Con la Gauss Riuscito ad abbatterlo Mi sono divertito tanto Era da un bel po' Che non avevo Questo Questo tipo di esperienza E Devo essere sincero Mi sono divertito tanto Ora Cosa facciamo oggi Cosa facciamo oggi Una bella domanda Perché Effettivamente Non ho un piano Vedete Laggiù c'è un GPS Che si chiama Posizione approssimativa Perché lì c'è Teoricamente Il relitto Della base Che abbiamo Attaccato durante la live Quindi prima di tutto Vorrei andare Effettivamente Ad esplorarlo Perché abbiamo fatto Parecchi danni Lì con la GAU E E niente Voglio vedere Semplicemente Cosa C'è Adesso comunque Mi sento anche Molto più sicuro Perché la maggior parte Delle Delle nostre basi È Finalmente Aggiungerei Protetta Questa è anche La prima volta Che vediamo L'utilizzo Della Della Chiatta Oh yes Magari se metto Le batterie In automatico Meglio Ah un'altra cosa La chiatta adesso È piena Infatti se andiamo A vedere Nei Serbatoi Vediamo Sono pieni al 100% Quindi Perfetto E Infatti si comporta Dio Non è come la prima volta Che l'ho Che l'ho Sganciata Scusate Che aveva qualche problemino Dunque Dobbiamo fare Soltanto 3 km In Direzione Nord Più o meno Suppongo Che non ci siano Troppi problemi Un'altra cosa Volevo vedere Ghiaccio Ce n'è Oh si che ce n'è Oh si che ce n'è Sta diventando Davvero una 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 chiatta Porta ghiaccio Questa qua Perché vedete Anche se Il ratio di raccolta È davvero basso Lo stiamo facendo Da Ops Da così tanto tempo Che Ormai Ne ha raccolto Una vita Praticamente Di ghiaccio 33 metri Devo stare attento Perché qua Mi sa che siamo davvero In una secca Piano L'ultima cosa Che voglio fare È ribaltarmi Adesso Perché penso Che non riuscirei Ad alzarmi Di nuovo Scusate A rigirare La nare Penso di poterla Lasciare qua Sinceramente Non dovrebbe Non dovrebbe volerci Tanto Dovrebbe essere qua Dietro Piuttosto mi prendo Bene il gps E poi vengo Con un elicottero Magari Perché mi rendo Conto che questa Chiatta qua Sia più un mezzo Di trasporto Per adesso Non è fatta Esattamente Per Per questa missione Missione Questo piccolo Obiettivo personale Voglio vedere Che non ci dovrebbero Essere difese Perché l'ho bombardata Per bene Ok Sembra tutto libero Sì Direi di sì Vediamo un po' Vediamo un po' Cosa c'è Cos'è sta robetta qua Ah Un serbatoio Wow Allora Di qua non c'è niente Perfetto Ah C'erano delle torrette Ah Posto così Va bene Sì Sono praticamente Fottute Ci prendiamo Poi il GPS E torniamo Con l'elicottero Per prendere tutto Anche se davvero È pochissima roba Però Bebebebebebebebebebebe Ma sinceramente Sta roba qua È davvero poca È robetta Ragazzi L'unica cosa Che mi prendo Sono le munizioni Tutto il resto Poteva essere Anche mollato qua Ve lo assicuro Sinceramente Speravo in del loot Migliore Questo qua è davvero Loot di Bassissima categoria Ci si fa niente Con sta roba È stata un po' Una delusione Sinceramente È stata un po' Una delusione Mi aspettavo qualcosa Di un po' Più carino Vabbè Fa niente Fa niente Ok Direi che adesso Torniamo al porto Ancoriamo La La chiatta E poi Perché al porto Tutto sommato I lavori Sono fatti La prossima cosa Che dovremmo fare Sarebbe teoricamente Una nave Più grande In particolare Un cacciator pediniere Missilistico Che ho già pronto E tutto Sto anche lavorando Ad una corazzata Ma quella è Un'altra storia Tuttavia Non la voglio fare Perché è un qualcosa Che vorrei fare Con i Patreon Prima di tutto Perché è una nave Enorme E secondariamente Perché È una nave Che va controllata In più di una persona Ci sono Cosa Due batterie Di cannoni Più Un cannone Di prua Poi ci sono i missili E una persona La deve anche controllare Sta nave Quindi Insomma È qualcosa davvero Da fare con i Patreon Quindi Potremmo tornare indietro Al Direi All'aeroporto E costruire Il nostro primo VTOL Esatto Gente Ho costruito anche Un VTOL L'ho progettato Ne ho parlato un po' Su Discord È un bel progetto E soprattutto Ci aiuta tantissimo Con i nostri problemi Di mobilità Quindi sì Direi che Andremo per il VTOL Yes Devo essere sincero Però su una cosa Non è perfetto Per via del posizionamento Dei rotori Come sono posizionati Dove sono posizionati Lo script Che ne regola Il funzionamento Da qualche problema Tutto sommato Non sarà difficile Da far funzionare Ok Però potrebbe dare Qualche problemino Ok Perfetto Siamo ancorati Benissimo Eccoci qua Ce l'abbiamo fatta Direi che ce ne andiamo Allora dritti All'aeroporto Adesso Se non c'è altro Da fare Suppongo di sì Va bene Va bene Ok Dunque C'è qualcosa Che devo prendere Probabilmente Devo fare Il rifornimento Di gas Eh sì Sono senza Di entrambi Allora Allora Generatore Di carburante Ah Ci sono già queste Allora niente Faccio il cambio Da qua Generatore Di carburante Vai Dammi queste Perfetto Let's go Let's go Let's go Let's go Uh 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 Mi è appena venuta in mente Una cosa È da una vita Che non torna indietro Alle nostre Alle nostre Miniere Le postazioni All'abb elettrico Andiamo a vedere È quasi dall'inizio Della stagione Che non ci andiamo Facciamo un giro Dai Facciamo un giro Dov'è che era Però lab elettrico Vabbè ma mi ricordo io Dov'era Era qua sopra Più o meno Eh Dai che forse Lo sta caricando Deve essere Stato qua sopra È ancora lì Ciao Cos'è successo Però Mi sembri Totalmente distrutto Perché forse Lo è Cosa ti è successo Oh mio dio Cosa ti è successo Me l'hanno massacrato Wow È ridotto davvero male Wow Dio mio Vederlo in questo stato È brutto Sinceramente Vediamo un po' Lo stato della base Qua sotto Immagino che anche Questa qua Sia a pezzi Vedo già No aspettate Vedo ancora Il nostro carrello Elevatore Però vedo anche Pezzi in giro Mi ricordo Le prime volte Che provavo Ah no Sono dei Cespugli Dicevo Mi ricordo Le prime volte Che provavo Ad atterrare Qua con l'altro Elicottero Mamma mia Ah ora lo ricordo Ora lo ricordo Ripiega e stendi E vabbè Che cos'è Ma funzioni ancora Ah Non ti sfanculare Mi ricordo che avevi qualche problema di stabilità E invece Sali e scendi Mamma mia Uno dei primi progetti portati avanti Ragazzi Questo era comodo Questo sarebbe tuttora comodo Vabbè Torniamo Torniamo giù Dai Ripiega e stendi E va bene così A posto Siamo arrivati Perfetto Allora Vi faccio vedere subito Il gruppo elettrogeno Uh Mi sto rendendo conto Ora di una cosa Noi qua siamo senza carburante Aha Siamo senza carburante Quindi so cosa possiamo fare Allora costruiamo il VTOL Che non so quanto tempo prenderà Quindi potrebbe essere un intero episodio solo per quello Poi Una cosa che faremo Sarà prendere quel VTOL Andare all'aeroporto E all'aeroporto costruire una runway Perché poi Scusate l'aeroporto volevo dire al porto Al porto costruiremo una runway Perché costruiremo poi più avanti L'aereo mercantile Che mi serve per trasportare grandi quantità di materiali Yes Allora Questo qua è il gruppo elettrogeno Adesso è spento per questo c'è il braccio Così E come potete vedere È parecchia roba Ci sono otto motori Quattro batterie grandi Un fottio di batterie piccole E insomma ce n'è di robetta dentro E ci sono soltanto due radiatori Che non è una cosa positiva Ve lo assicuro Sto 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 valutando un attimo dove costruire il VTOL Penso che lo dovremmo costruire all'esterno Ah si Qua le torrette invece Sono diverse rispetto alle altre Perché abbiamo due copesh Che sono queste qua Ma laggiù ci sono le raptor Che sono stile gaitlin Più o meno Più o meno Più o meno Ok 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 Di dove salgo Da qua Bene Ce l'abbiamo fatta Ok Serviranno tipo un fottio di nastre Ok Tempo della proiezione Proiettore Progetti Però ci siamo E' questo qua il VTOL Oh è quello con la versione del cockpit Fa niente Mi piace questa versione del cockpit E' Ecco lì su Discord Che non piaceva E dato che devo guidarlo io Faremo un attimo come canso mi pare Va bene? Grazie Mi piace il vostro supporto ragazzi Quando siete Quando fate così siete davvero Davvero fantastici Dai cominciamo Sì ma tu stai piazzando blocchi a caso Questa cosa non mi piace Qualcosa che non so come mai Space Engineers ti fa fare Ti fa piazzare blocchi a caso Anche dietro All'attuale costruzione Non ha senso Smetti di farmelo fare Io voglio costruire l'armatura Non voglio costruire altro Lasciami stare Vi renderete conto Anche che questo stile qua E' molto lontano per ora Da quello che ho costruito Semplicemente volevo cambiare un po' Volevo cambiare un po' Ok qua ci sarà un po' di casino adesso Perché C'è un overlapping di componenti Oh Stava compenetrando Non mi pare proprio il caso Ok mi voglio fermare qua un attimo Perché sennò poi andiamo verso le ali E quelle lì sono Un po' più difficili Che altro ci porterebbero fuori strada Voglio prima Concludere la parte del Della vitacolo E la porta è fatta Ora Vediamo un po' cosa che posso rimuovere Che magari ancora non è il caso di costruire Eh sì Ce n'è di roba ancora qua da costruire Sì 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 Allora adesso sta piazzando già tutti i blocchi delle ali Che non sono una cosa positiva per ora Per fortuna le ali sono estremamente semplici da fare Ah ecco cos'altro Due giroscopi Subito Coming right up Qua si è rotto qualcosa Sì diciamo che gli script non sarebbero ancora da avviare Allora ha fatto il cockpit Scusate La cabina Vedrò di Di chiuderla e di non andarci più sinceramente Direi che va bene così anche Da Penso che l'abitacolo sia fatto Esatto Esatto È stato fatto Yes Abbiamo fatto l'abitacolo Bene Passiamo alle ali o al corpo centrale Guardate qua Ha saldato tutto a caso Che bello È venuto qualcosa Finita l'energia Dai no Così è A buffo di minchia Ha buttato fuori Voi sapete perché? Io no Se lo sapete Fatemelo sapere Magia dell'editing Riportami in gioco Oh wow Grazie Magia dell'editing Stavo dicendo Non c'è che ci siamo Facciamo anche un salvataggio Ho finito l'energia Oh no Adesso c'è da fare Sempre la parte di Struttura dell'ala Che si collega Al resto della fusoliera Ma non ci credo Abbiamo finito Oh abbiamo finito la parte di sca Più o meno La parte destra di scafo È quasi finita Non diciamo cazzate ancora Ok Allora per adesso Penso di potermi fermare Qua A questa parte di scafo Vediamo di fare bene Il resto Oh forse siamo arrivati A un buon punto Forse siamo arrivati A un buon punto Dai Mi sa proprio di sì Lo spero perché Sta diventando uno strazio Infilarmi in questi buchi qua Per costruire La strada acciaio Vieni con me Eh dai che abbiamo fatto Allora Sì perché il resto qua è armatura E poi qua dietro ci sono C'è l'attaccatura per l'ala L'ala posteriore Allora Ho iniziato L'ala posteriore Quello che voglio fare Adesso è salire Sulla struttura Non so come Sinceramente Sarà Non sarà esattamente semplice Ma Voglio salire Sopra la struttura Appunto E E costruire appunto Da Da sopra Ecco qua Allora Non sta venendo uno dei lavori Più Puliti del mondo Qua Per via Della sovrapposizione Dei blocchi Che mi sta dando Qualche problema Però penso di riuscire a finirla Abbastanza velocemente Tanto qua è solo Solo armatura Allora Suppongo che sia quasi fatto Probabilmente manca ancora Qualcosina all'interno Perché sento Il piazzamento continuo Di blocchi E quindi Sì Penso che non Che non sia ancora Del tutto completo Però Se adesso Vabbè Prima vi faccio un giro All'esterno Ma Teoricamente Dovrebbe essere Quasi completo Vorrei dire completo Ma non mi fido Di me stesso Bene 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 Quindi è Praticamente pronto Posso togliere Le impalcature Oh Per poco Non me le prendo Un faccia Posso togliere Le impalcature Perché tanto adesso Devo fare soltanto I carrelli D'atterraggio E i motori Questi pistoni Qua Non mi piacciono Per niente Ok Ti ho liberato Blue Jay Sei libero Fatto E' atterrato E' atterrato Vero Yes Che è atterrato Di qua si sale Benissimo Benissimo E direi che Dopo una Velocissima Controllata Possiamo pensare Di fare un po' Di rifornimento Andando al porto Anche se penso Che possa funzionare Anche così Ok no C'è qualcosa Che non va Nella Nella hotbar Vedo Ok Eccoci qua E ho esteso I carrelli centrali Per evitare problemi Con un ipotetico Ribaltamento Cioè devo essere sincero C'ho un po' D'ansietta Ma non vi preoccupate Perché adesso Facciamo il primo test Di volo C'è una cosa Che non ho provato A fare E' quella Di introdurre Un nuovo blocco All'interno Ok Va bene Questo è proprio Ehm E' una deviazione Dal progetto originale Perché volendo Potrebbero fare Lo stesso tipo di lavoro Non posso ritirare Sette motori Perché? Che cazzo dici? Ok Praticamente Potrebbero avere Lo stesso effetto Sarebbe perfetta Come cosa Devo fare qualche modifica Qua alla struttura Ma ci siamo Tutto sommato Configurato Qua Si Apply tags Grazie Normal running Checking as hell Vediamo Sembra essere In stand by Ok Ha attivato I propulsori Morsatori Morsatori di inerzia Cruise mode Ok Ci siamo E adesso Li spegniamo Vediamo Così In stand by E infatti Partono Per la tangente Benissimo Direi che ci siamo Allora Possiamo Far partire Lo script Non è più in stand by Perfetto Accendiamo I propulsori I thruster Sono Ok Gli smorzatori Sono online Cruise mode Per ora Non mi serve Accendiamo Anche questi Ritiriamo Ritiriamo Il carrello D'atterraggio E ci siamo Siamo Suppongo di si Non voglio andare Molto veloce Perché questo qua È il volo di prova Se metto Se metto però La cruise mode Perfetto Mettiamo Una velocità Di crociera Benissimo Direi che Forse 25 metri Al secondo Può bastare Possiamo anche Ridurlo Benissimo Ok Magari andiamo Un po' più veloci 40 metri Al secondo Sì 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 Una cosa Perché questa qua Non è Questo qua Non è il mio mondo Di progettazione È il caso Probabilmente Di installare Anche dei paracadute Perché mettiamo Caso che lo script Fa le bizze La prima cosa Che voglio fare È spegnere I motori E scendere Semplicemente così Ok Cerchiamo un attimo Di correggere Però la rotta Grazie Stai andando Contro la montagna Fatemi sapere Nei commenti Cosa ne pensate Di questo Di questo verivolo Se vi piace Se avete dei consigli Come al solito Lasciatele nei commenti Ok Forse possiamo Possiamo azzardare Qualcosina di più Per la velocità Dai Ecco qua Lo script Che fa lo scemo Non mi fa più rallentare Guardate Non mi fa rallentare Anzi Forse stiamo Pure accelerando Boh Ha deciso di accelerare Ok Propulsori spenti Perché l'ultima cosa Che voglio fare È causare problemi Cioè avere problemi Ok L'ho riaccesi Adesso sta Effettivamente frenando No allora Per fortuna Ne ho anche una versione Non vitol Quindi in caso Dovesse dare ancora Questi problemi qua Potrei impiegare Quella lì Iniziamo ad aprire Il carrello E ad estenderlo Non sono sicuro Di voler atterrare Su quel Su quell'helipad È un po' pericoloso Visto Visto la natura Del Del vitol Però mi serve Effettivamente Atterrare qua Perché devo fare Il rifornimento Inoltre devo aggiungere Altri radiatori Perché quelli che ho montato Non bastano E touchdown Wow Guardate Guardate i rotori Stanno uscendo di testa Ce la fanno più Ok Penso sia il caso Di prendere un po' di ghiaccio E fare un minimo Di rifornimento Mamma mia Però ragazzi Se è ansiogeno Come cosa Eh Si è acceso il motore Yay Vediamo Se metto le batterie In ricarica Bene Fate quello che dovete Ricarica Grazie Ok Uh Menomale Allora io adesso Mi farò un po' di Raccolta di ghiaccio E rifornimento Per quel Per il vitol Poi proverò a fare Ancora qualche Qualche volo di prova Se vedo che effettivamente Non si comporta Per niente bene Lo faccio fisso Ok E comunque Lo possiamo comunque Considerare un vitol Perché non sarà Semplicissimo Da pilotare Considerate che Quello che farò Sarà Praticamente Sostituire Il rotore E queste due cose qua Che vedete Le metterò fisse Quindi una sarà in avanti Una sarà indietro Queste qua sono già fisse Sarà molto difficile Da controllare Però Il feeling Sarà quello di un vitol Praticamente Ok Quindi direi che A questo punto Ci possiamo anche salutare Vi ringrazio tutti Tantissimo Per avermi seguito Vi invito a lasciare Un bel mi piace E un commento Dicendomi cosa ne pensate Di questo episodio Se avete dei consigli Come al solito Lasciateli qua sotto Io vi ringrazio ancora Per la visione Sono Gold E noi ci vediamo Con i prossimi video Bye bye Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti